Un paglio dell'oca che ha riservato sorprese quello di questa edizione delle feste vigiliane a vincerlo gli zatterai di San Giuseppe davanti a quelli di San Lazzaro e a Meano ben 50 gli equipaggi a darsi battaglia sulcando le vorticose correnti dell'Adige da Roncafort fino al ponte di San Lorenzo 4 chilometri e altrettante prove di difficoltà due gli equipaggi completamente al femminile a quello di Cento Chiavi e di Basilga del Bondone tradizionale paglio dell'oca che ha preceduto le sentenze del giudice unico Loredana Cont assolti di lusso il presidente Maurizio Fugatti richiamato comunque a far valere di più il concetto di autonomia nei confronti dell'esterno niente Tonca nemmeno per il sindaco di Trento a finire nell'Adige sono stati l'assessore comunale Roberto Stanchina i consiglieri di Palazzo Tuna Andrea Maschio e Vittorio Bridi e il presidente del consiglio provinciale Walter Casvalder Reo di aver rimosso il proprio segretario Walter Pruner senza giusta causa grazie grazie grazie